Eccoci cari telespettatori, un altro spazio della nostra trasmissione, quindi un'altra ospite. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio, la ringraziamo di averci raggiunto perché non è proprio dietro l'angolo, la dottoressa Manuela Fornasier, grazie di essere qui con noi, che è neuropsicologa e quindi ci spiegherà bene di che cosa si tratta, chi è un neuropsicologo ed è molto importante anche saperlo e con lei parleremo, cercheremo di farvi anche capire l'importanza di diagnosticare per tempo i disturbi del comportamento nei bambini, nei più giovani. C'è un'incidenza altissima di queste problematiche, si tratta anche di deficit di attenzione, di iperattività, di tante sintomatologie molto frequenti che tanti attribuiscono alla maleducazione, al fatto che comunque i bambini adesso sono così, sono tutti molto più vivaci, sono diversi rispetto alle generazioni precedenti e che ci può stare, ma non sempre è così. Quando non è così è bene intervenire per tempo per aiutare il bambino ad una crescita consapevole, da adulto poi, tra virgolette, tranquillo, normale, insomma responsabile delle proprie azioni e che può anche controllare le emozioni. Tante tematiche, tante cose, dottoressa, che vengono fuori. Innanzitutto, qual è la neuropsicologa? Sì, allora intanto grazie, grazie assolutamente per l'invito. Allora, io sono una psicologa, psicoterapeuta e sono specializzata in neuropsicologia dello sviluppo, quindi noi lavoriamo sostanzialmente, studiamo prima e lavoriamo dopo con bambini, con ragazzi, ma mi verrebbe da dire sempre di più anche con adulti, che hanno delle fragilità neuroevolutive, quindi hanno fondamentalmente dei disturbi, a me piace chiamarli delle modalità differenti di essere, no? Tante volte, quindi lavoriamo con bambini che possono avere il disturbo di attenzione e iperattività, ADHD, lavoriamo con bambini, con giovani che hanno disturbi dello spettro dell'autismo, piuttosto che altre fragilità. Quindi il neuropsicologo si occupa di diagnosi, di riabilitazione o di abilitazione relativamente ai disturbi neuroevolutivi. Allora, le ho chiesto perché tante volte le famiglie, quando un bambino cresce, non sono proprio i primi giorni, i primi mesi, forse neanche i primi anni di vita, incominciano a manifestare queste particolarità, non sanno dove sbattere la testa. Allora magari vanno dal pediatra, il pediatra diceva, continuiamo, vediamo, crescerà, eccetera. Poi tanti fanno il percorso dello psicologo, ma non è forse la figura più adatta. E centrare subito l'obiettivo e sapere che esistono queste professionalità, può ridurre molti tempi di intervento, secondo me, no? Sì, allora diciamo che spesso i nostri bambini vengono identificati soprattutto alla scuola dell'infanzia. Quindi ci sono gli insegnanti della scuola dell'infanzia che, come dire, hanno un'osservazione ampia, no? Di tanti bambini e vedono delle caratteristiche, mettiamone così, leggermente divergenti, no? Quindi il bambino che si muove un po' di più, che fa fatica a stare fermo, che fa fatica a modulare l'emotività, l'esplosione di rabbia. Esplosione di rabbia, questo non è così poco conto, eh? No, no, l'esplosione di rabbia, certo. Qui poi abbiamo anche gli adolescenti con l'esplosione di rabbia. Allora, è chiaro che, soprattutto parlando di ADHD in questo caso, perché per lo spettro il discorso è un po' diverso, nell'ADHD non facciamo diagnosi all'età della scuola dell'infanzia, ma facciamo eventualmente un'ipotesi diagnostica che poi andrà confermata alla scuola primaria, però cominciamo a fare degli interventi di supporto efficaci. Quindi lavoriamo con i genitori, perché? Perché questi sono dei bambini che, avendo delle caratteristiche peculiari, hanno anche bisogno di modalità di intervento. Non è che il genitore è sbagliato, eh? Assolutamente. Uno può avere dieci figli e aver lavorato molto bene con tutti e dieci, ha il bambino con ADHD, però ha bisogno di attenzioni specifiche, di modalità di intervento specifiche. Quindi si lavora con i genitori, si lavora con la scuola, col bambino si fanno degli interventi che vanno dalla psicomotricità, piuttosto che se ne dovesse aver bisogno dalla logopedia, perché a volte capitano anche le comorbidità. si entra in scuola primaria e poi lì si comincia a lavorare anche col bambino attraverso l'intervento multimodale. Quindi si lavora col bambino, training, non lo so, il training per gli aspetti attentivi, il training autoregolativo, quello che serve. Sono diversi percorsi. Sono diversi percorsi. Però è la scuola, si entra nella scuola, è la scuola che li dà oppure... La scuola può segnalare, spesso è la scuola che segnala una fragilità. Provi ad immaginarsi dei genitori che hanno un primo figlio o figlio unico, non hanno un metro di raffronto con altri bambini. Sono quello che erano loro forse da piccoli, fratelli. Spesso sì, quindi spesso la scuola, la scuola dell'infanzia, è il primo momento dove entri così all'interno di un mondo strutturato, di regole, socializzazione, dove eventualmente possono emergere delle problematiche. E ancor più poi alla scuola primaria, perché poi alla scuola dell'infanzia è comunque ancora una dimensione ludica di gioco. Alla scuola primaria ci sono gli apprendimenti. I nostri bambini con fragilità, fragilità di attenzione, necessità di muoversi per attività, spesso possono fare molta fatica. E quindi è importante supportarli in modo adeguato. Certo. A questo punto il supporto deve essere per quanto tempo? Cioè si può venirne fuori? Perché lei ha citato anche adulti e poi si può intervenire anche in momento successivo? Si ottiene qualche risultato a seconda di quando? Di quando si interviene. Allora, con i disturbi neuroevolutivi ci si nasce, ci si cresce e ci si convive per tutta la vita. Quindi vuol dire che è una patologia? O è una qualcosa di anche... No, genetico no? Perché sembra che nelle generazioni passate fossero un po' più... No, no, no. È genetico. È genetico. E nelle generazioni passate l'ADHD c'è sempre stato, solo che... Non si diagnosticava. Come dire, non veniva riconosciuto, non si conosceva fondamentalmente. La prima descrizione in letteratura scientifica di ADHD ce l'abbiamo nel 1902 sulla rivista Lancet, che è una rivista che esiste tuttora scientifica. Quindi non è una cosa di oggi. È chiaro che non si chiamava ADHD, l'etichetta era un'altra, però la descrizione sintomatologica era la stessa di oggi. E quindi in realtà le persone che hanno questo tipo di caratteristiche sono sempre esistite. E come tutte le caratteristiche, sottolineo la parola caratteristiche, non sono né giuste né sbagliate, sono semplicemente diverse. È l'impatto dei sintomi sulla vita quotidiana che può poi, come dire, causare delle difficoltà. Quindi se io ho un ambiente che in base alle mie caratteristiche di base, come dire, fa fatica a capirmi, fa fatica a comprendermi, io sono un bambino disattento e vengo richiamato mille volte al giorno perché devo stare attento, perché devo stare fermo, perché devo girarmi, perché non devo parlare. Voi capite che questo impatto funzionale provoca la compromissione. Quindi sono sempre esistite, come dire, le persone che possono avere difficoltà di questo tipo. Noi siamo diventati sempre più bravi nel corso del tempo a identificarle, non etichettarle, non vorrei che passasse questo messaggio, ma a identificarle per poter supportare i bambini. Cioè, detto in un altro modo, ai tempi di mia nonna, eri, come dire, quel bambino che non stava mai fermo, non stava mai, ti buttavano fuori da scuola in quinta elementare e ti dicevano ciccio va a lavorare, che non è il tuo. Adesso i nostri ragazzi, noi ne abbiamo tanti, sono all'università, sono al liceo. Quindi riescono anche a trovare una modalità di interrazione in contesti articolati, sociali o anche di impegno, intervenendo appunto perché si siano intervenuti in un certo qual modo. Quindi, ma cosa insegnate? Strategie? Oppure andate a guarire, tra virgolette, un problema? Sono cure farmacologiche? Oppure sono metodiche cognitivo-comportamentali, psicologiche di vario genere? Allora, non andiamo a guarire perché appunto parliamo di disturbi, non di malattie. Quindi, come dirà, il disturbo è qualcosa di permanente, la malattia per definizione, teoricamente, è qualcosa da cui si guarisce. E ripeto, a me piace chiamarle modalità differenti di essere. Andiamo a dare ai bambini, ai ragazzi, ma anche agli adulti, delle strategie che sono prima di compensazione e progressivamente, nel corso del tempo, diventano autocompensative. Cosa vuol dire compensazione? Cioè, se io ho un disturbo di attenzione e quindi vuol dire che la mia attenzione è fluttuante, vuol dire che si accende e si spegne, si accende e si spegne, no? I nostri bambini hanno degli span di attenzione, dei tempi di attenzione di due minuti, di tre minuti. Il che vuol dire che sono attento, poi mi sconnetto, poi sono attento, poi mi sconnetto. A prescindere dalla loro volontà, cioè è tutto importante spiegarlo. Assolutamente, è tutto involontario. I miei bambini te lo dicono con i lacrimoni agli occhi, ma io voglio stare attento, ma io voglio stare fermo, io non voglio disturbare durante la lezione, ma non ce la faccio. Perché? Perché ho un deficit di autocontrollo, perché sono un impulsivo, perché sono un disattento, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a dare i trucchetti, noi li chiamiamo, che sono delle strategie metacognitive, che sono delle strategie cognitivo-comportamentali, che sono, come dire, dei supporti, mettiamola così, che diamo ai bambini, ma che poi anche gli insegnanti mettono in atto. Cioè facciamo un esempio, la lezione a scuola, il bambino ha due minuti attento, poi... Poi si spegne. Si spegne. Si scollega, mettiamola così. E si collega magari a qualche cos'altro. Perfetto, perché ovviamente poi si distrae per la mosca che passa. Allora, la maestra sa che Giacomino si distrae in tempo zero, quindi creiamo un suono, un gesto, che sappiamo solo io maestra e te Giacomino. Ah, quindi la maestra deve essere a conoscenza. Assolutamente sì. Quindi in cui... Giacomino, quando faccio così, questo è il nostro, come dire, gesto magico, e tu lo senti e ti riconnetti. Perché lo sappiamo io e te? Perché se io ti richiamo 50 volte in un'ora, Giacomino, stai attento. Davanti a tutta la classe. Bravissima. Uno, io, Giacomino, mi sento mortificato. Due, lo sentono anche gli altri, si che ha anche un effetto alone. Giacomino è quello sempre disattento. Però ci deve essere sempre qua un'interlocutrice, perché una maestra saggia, partecipe e preparata, che faccia questo tipo di azione, di intervento, eccetera, o comunque i genitori presenti, occhi per loro, nonni, eccetera, che richiamano l'attenzione e che stanno vicino al suo veneto bambino, perché se deve fare i compiti, dovrebbe starsene magari da solo, è anche difficile richiamarlo. Certo. C'è qualcosa che uno da sé può imparare per riattivarsi? Poi sto pensando, il Giacomino è diventato più grande, entra nel mondo del lavoro, ahi noi. Certo, ed è quello che si diceva prima, no? Le strategie sono compensative, ma progressivamente, lavorando appunto con Giacomino, diventano autocompensative. Vi faccio un esempio. Uno dei miei Giacomini più grandi, ha 54 anni, è una docente, una persona eccezionale dal mio punto di vista, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale, e lui te lo spiega bene la sua difficoltà, per esempio, a stare focalizzato sul compito, nel senso che lui va a casa, deve correggere le verifiche, si pianifica il pomeriggio dalle 2 alle 6 per correggere le verifiche, il primo errore che vede comincia a ragionare perché il ragazzino ha fatto quell'errore, poi gli si apre un altro ragionamento, poi arriva alle 6 che è ancora fermo alla verifica, il che vuol dire che deve lavorare tutta la notte per correggere le verifiche per l'indomani. E questo è l'impatto funzionale sulla vita quotidiana. Quindi, non lo so, una strategia, un trucco, passatemi il termine, è quello che ci mettiamo dei timer, in modo tale che scadenziamo ogni mezz'ora, ogni ora, quello che decidiamo, la verifica di quello che siamo riusciti a fare per verificare se siamo stati sul pezzo. Mi dimentico, ho un deficit di memoria prospettica, quindi so che domani mattina devo fare questo, 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 però mi perdo i pezzi, userò il post-it, userò l'alert del cellulare, userò degli strumenti compensativi. Allora, sembrano delle banalità, francamente noi tutti credo che usiamo l'agenda, ma sono tutti compensativi questi. Quindi, in realtà, mettiamo a regime per loro un po' più di compensativi, ecco, mettiamola così. Perché? Perché questo permette di essere più efficaci e di avere un minore impatto nella vita quotidiana. Ecco, sto pensando però che anche molte persone che non hanno magari questi problemi, non sono proprio i giacomini della situazione, con il fatto che si lavora tantissimo con internet, con il web, e che il cellulare malefico è sempre con noi connesso, iperconnesso. Abbiamo talmente tanti fattori che ci portano via da quell'occupazione che in altri mondi, perché in quel momento arriva un WhatsApp, il social che mi messaggia questo, poi ti entra un blog, il disastro, devi spegnere tutte le pubblicità del mondo, continuamente bersagliato se lavori su un PC, con un cellulare, eccetera. Non è il bel libro, e là ci vuole la testa che lavora, perché poi è stare più attento. Io immagino questi strumenti, che sono diffusi anche in possesso dei giacomini. Cioè, diventa terrificante, se è pesante per una persona che non lo è, che non ha questi problemi del disturbo cognitivo comportamentale, eccetera, io immagino possa essere veramente devastante per chi invece ha fattori di distrazione e elementi pronti da agganciare. Sì, è vero. Per esempio, una delle, come dire, delle false convinzioni passate a militario, ma questo ce l'hanno tutti gli adolescenti, non solo Giacomino, che hanno i ragazzi, è il cellulare di fianco a me mentre studio, tanto non mi distrae perché è insilenzioso. Il cellulare, nel mio cellulare di adolescente, arrivano 2.500 WhatsApp nel giro di 15 minuti, ok? I gruppi e quant'altro. Non li guardo, ma sento la notifica. Mi pare che sia stato stimato 9 secondi per, come dire, di distacco dell'attenzione, no? Arriva il WhatsApp, e la mia attenzione si toglie e per riagganciarmi a quello che stavo facendo, 9 secondi. Per ognuno, però, per ogni notifica, Instagram, Facebook, WhatsApp, quello che hai. Anche se io non apro quella cosa lì. Quindi provate a immaginarvi, primo, come dire, quante fonti, no, di distrazione ci sono. Secondo, quante risorse consumo, quanta energia, io la chiamo benzina, no? Devo consumare per riportare l'attenzione da lì a qui, perché magari io sto studiando storia e voglio anche studiare storia, però il mio pensiero principale non è proprio su storia, è su WhatsApp, perché chissà cosa è successo nel tempo che io sto studiando storia, perché i ragazzini, insomma, sono molto più focalizzati, no, su quello che su questo. Sì, sì, assolutamente. Quindi diventa un problema, un suo problema. È vero che sono dei buoni strumenti compensativi, è vero che bisogna imparare a gestirli bene, anche gli adulti. Eh, anche gli adulti, esatto. Magari anche i genitori riusciranno a porsi in modo tale che ci siano delle regole, insomma, forse dove ci sono delle regole risulta anche più facile poi attuare determinate strategie per aiutare questi bambini, o no? Assolutamente sì, però sono bambini che molto spesso fanno proprio fatica nel rispetto delle regole, non perché sono maleducati, attenzione, non lo sono, non perché sono cattivi, perché sono dispettosi, ma perché hanno una difficoltà specifica. Loro le regole le sanno benissimo, anzi sono anche molto normativi, hanno un profondo senso della giustizia, quindi molti fattori positivi. Poi però fanno fatica a starci dentro la regola. Quindi, di nuovo, è importante che ci sia un ambiente strutturato e preparato, primo, che sappia porre la regola in modo corretto, che non è semplice, secondo, che poi riesca anche progressivamente a far rispettare la regola, progressivamente. Progressivamente, perché progressivamente? Perché se io dico al mio Giacomino, la regola è non si corre in corridoio, ok, regola comune in tutti gli ambienti, che cosa ci sta dicendo questa regola, secondo lei? Che ci deve comportare in un certo modo, in un certo ambiente. ci sta dicendo che lei, lei mi sta dicendo che io non devo correre, e se io striscio, faccio la rana, il coccodrillo, posso? Posso rotolarmi in corridoio? C'è la fantasia superante. Lei mi direbbe di no, ma tecnicamente io la regola l'ho rispettata. Ah, c'è proprio... Però lei mi mette la nota perché io sto strisciando, giusto? La regola non si corre in corridoio, non mi sta dicendo cosa tu ti aspetti che io faccia. Si cammi... In corridoio si cammina, stessa regola identica, cioè nel nostro obiettivo, però mi dice quello che tu ti aspetti da me, giusto? Che io cammini. Ecco, per esempio, questa è la differenza. È chiaro che se io metto 20 regole, mio bambino non ci sta dentro su 20 regole. Dovrò lavorare affinché lavoriamo su due, tre regole le più significative, quelle che mi servono in quel momento. riusciamo a introiettare questa cosa qui, lavoreremo su altre regole. Però, come dire, ci sono degli step, no? E questo fa parte di tutta la formazione che poi facciamo con i genitori, con gli insegnanti. Sì, sì, è bella... È un mondo. È un mondo. La DHD è un mondo. Esattamente, ci avete anche dei numeri interessanti, prima fuori onda, però perciò è una percentuale molto alta di quelli che sono stati diagnosticati, poi tra l'altro, perché non tutti. Esattamente. Allora, noi sappiamo da letteratura, a grosso modo, che dal 3 al 5% della popolazione scolastica è dentro, no? Questo tipo di disturbo. In realtà, i dati poi delle scuole sono un pochino più alti e sono in crescita. Ora, non è che noi facciamo le diagnosi perché non sappiamo come passare il tempo, che sia ben chiaro, ma perché, permettetemi, stiamo diventando sempre più bravi a identificare i bambini che hanno delle fragilità, non per mettere delle etichette diagnostiche, ma per riuscire a supportarli. Un bambino che ci lavora, una famiglia che ci lavora, intanto, come dire, riesce ad avere degli strumenti anche relazionali migliori. Cioè crea contatto con questo bambino, sostanzialmente. Esatto, per riuscire. O con questo adulto, poi. Esatto. Provate a pensare, dei genitori che si trovano con un bambino con ADHD, dove non funziona niente. Non funzionano le buone, non funzionano le cattive, non funziona sgridarlo. È una famiglia che si trova... Devastata, secondo me. Devastata, è la parola giusta. Stigmatizzata, giudicata, ti giudicano i nonni, gli zii, la società è marginalizzata, perché quando il bambino si inserisce in questo contesto, non basta una festicciola a casa di altri, può fare, anche combinare guai, tra l'altro, oppure essere di difficile gestione. Giusto, spesso i bambini alle festicciole non ci arrivano perché non vengono invitati. Spesso sono bambini che la partita se la giocano tra casa e scuola. Perché? Perché vogliono fare calcio, ma dopo due volte ti dicono guarda, è meglio che non lo porti, che non è il suo. vogliono fare danza, idem, il catechismo molto spesso diventa un momento molto difficile. Perché? Perché questo disturbo non si conosce. E quindi, in qualche modo, come dire, l'etichetta è proprio quella della maleducazione. Più noi siamo coercitivi con questi bambini, più aumentiamo l'effetto della oppositività, perché li stiamo mettendo in difficoltà. Ah, quindi, ecco, allora lo interrompo qua. le maniere brusche o rigide, coercitive non possono, esatto, non funzionano. Cosa può succedere? Che reazioni ci possono essere? Ma vediamo di sviluppare ancora, perché sono tematiche estremamente importanti e interessanti, perché i numeri sono notevoli, sono tanti, sono veramente tanti bambini, adolescenti che hanno questo problema e anche adulti. Quindi, qualcosa si può fare, seguiteci, tra poco, canale 19, restate con noi. Grazie a tutti.